Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo una challenge dove alle parallele testeremo la loro resistenza. Queste sono le ginnaste del centro igienico più sano, Esther, Marilyn, Francesco, Caterina, Giulia, Chiara, Giulia, Vittoria e Matilde. Prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un like e attivare la campanella così almeno sarete avvertiti per i prossimi video. Adesso ci spostiamo alle parallele, le dividiamo in coppie e vediamo chi di loro resiste più tempo appeso all'ostaggio. Ciao! Allora le prime a partire sono Esther, Chiara e Caterina dovranno rimanere appese all'ostaggio, l'ultima che rimane appesa va in finale. Ok? Quindi pronti? 3, 2, 1, via! Non è l'importanza. Vedo lo stadio è mezzo. Vediamo chi di loro. Chiara apparentemente tranquilla. Vai Chiara! Una sfida da fare! Chiara è tranquilla. L'hai stagiato? 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2 sfida tra ester e chiara e chiara è la vincitrice va in finale le prossime sono matilde e vittoria pronti 3 2 1 via stai già soffrendo matilde matilde che sta provando a far cadere no non puoi mettere no 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 vediamo quanto dura vittoria sta iniziando a soffrire si vede dalla faccia piano le coste le fanno male non dite le parolacce secondo voi stanno soffrendo adesso tocca a francesco e giulia pronti 3 2 1 via piano 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 tanto te devi stare attaccato eeeh giulia è la vincita allora adesso ci abbiamo le ultime due che sono giulia e marilyn pronti 3 2 1 via piano piano ma io devi un altro piccolo ma si faccia stare chiara dammi si è chiara un po' più forte in finale non avanza non in faccia ma come andrà in faccia ma non è divertente giù basta marta passa prenda fatica marylin marylin oh no c'è la mia stop ma marylin dai giulia vieni 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 dai giulia vaffa no non mi basta una bella vincita si come quella di non mi giulia cosa che giulia no e marylin è la vincita adesso tocca alla finalissima dove ci sono marylin, giulia, vittoria e chiara pronti? 3 2 1 via vito spero tu caschi giulia eh ma giulia no non dà se mi lepidate perchè? perchè no il nostro round saperebbe chiara è tranquilla beh palla vittoria è un salame mezzo cosa vuoi fare il risultato? ammirati i pedi? sì scopo 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 e chiara scende prima eliminata vittoria si sposta dove? non c'è il magnesio che dolore che dolore marylin è scesa ecco duetto finale ma vittoria sa piccola ma vittoria sa piccola vittoria e giulia vittoria e giulia che stai non volare vedi che sta attacca vittoria non ce la faccio più scopo 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 e dal centro cinico pisano è tutto le nostre ginnaste ciao 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 vi aspettiamo qui in palestra da noi ci troviamo a Pisa a settembre apriremo nuovi corsi quindi ci sono altri posti apprettatevi ci trovate su instagram a mds-centrogenico pisano e anche su facebook insomma venite e vi divertite esatto scrivete nei commenti se volete che facciamo altre challenge ciao